Da circa un mese, l'attuale direttore generale dell'ASP di Ragusa, Angelo Aliquo, ha individuato in alcuni locali dell'ospedale Maria Paternoa Rezzo, in particolare nell'ex ostetricia, il centro trattamento Covid per tutta la provincia di Ragusa. Parte da questo presupposto l'interrogazione che il consigliere comunale di Ragusa prossima, Gianni Jurato, ha presentato al sindaco e per conoscenza anche al manager, avendo per oggetto l'attuale funzionamento della nuovissima struttura. È superfluo dire, aggiunge Jurato nel documento, che la scelta fatta, oltre a trovare consenso in molti cittadini blei nel sottoscritto, ha trovato soprattutto consenso nel mondo sanitario, proprio perché si ha la possibilità di usufruire alla bisogna di ampi locali e anche perché il centro Covid si viene così a trovare geograficamente in una zona centrale della provincia di Ragusa. A questi fattori oggettivi da salutare positivamente si aggiunge il fatto che al ridosso dell'ospedale Paternoa Rezzo si trova un eliporto attrezzato anche per il volo notturno, mai utilizzato e già oggetto di una mia precedente iniziativa ispettiva, che potrebbe rappresentare un sostegno logistico importante per il nuovo costituendo centro Covid. Jurato, nell'interrogazione, chiede però di sapere a che punto sono i lavori di adeguamento strutturale del nuovo reparto al Paternoa Rezzo. Dovremmo anche comprendere, aggiunge, se le attrezzature di ventilazione artificiale, rianimazione ed ecc. sono già nella disponibilità del centro in questione e se sono già stati individuati i percorsi protetti. Jurato, poi, chiede di sapere se è già stato individuato e formato tutto il personale sanitario che dovrà gestire il centro Covid e quindi rivolge altre richieste all'indirizzo del sindaco e del manager. Con quanti posti letto di rianimazione, chiede, sarà attrezzato il centro e ancora è utile conoscere se è già stata trasferita all'ASPA di Ragusa la dotazione finanziaria necessaria dalla regione o dallo Stato per approntare il centro e fra quanto tempo si ritiene che il nuovissimo reparto Covid entri in funzione nella sua interezza e piena funzionalità. Jurato invita il sindaco a incontrare con urgenza il direttore generale per avere notizie certe e dettagliate sull'andamento dei lavori e sul funzionamento del nuovissimo centro.